Siamo al sesto giorno di guerra, al sesto giorno in cui è cominciata l'invasione della Russia in Ucraina. Pochi giorni, pochi giorni tragici, ma che sono stati sufficienti a mobilitare anche l'attenzione, la sensibilità, la generosità dei pesaresi. Caso emblematico oggi qui al mercato settimanale del martedì, al San Decenzio di Pesaro, dove gli stessi venditori ambulanti si sono coordinati nell'organizzare una raccolta di indumenti, coperte, anche peluche, giocattoli destinati ai cittadini ucraini, a quelli in fuga dal loro paese che sono destinati anche ad arrivare in Italia, ma anche agli stessi confini, c'è un coordinamento con la protezione civile che appunto ha un filo diretto con gli ambulanti. Qui sono le dieci e mezza del mercato del martedì al San Decenzio, la raccolta è iniziata ad un'ora e mezzo e già sono tantissimi i doni arrivati qui davanti al bar ciclone del mercato San Decenzio. Abbiamo fatto una petizione con tutti gli ambulanti che sono accorsi in maniera proprio esemplare, perché la sensibilità per questa gente è veramente tanta e stanno arrivando coperte e tante cose calde dagli stessi ambulanti e anche dalla popolazione di Pesaro. Volevo anche ribadire che anche martedì prossimo faremo questa raccolta proprio per l'Ucraina e siamo molto contenti che il mercato di Pesaro ha sensibilizzato questa cosa di modo che la gente possa capire l'umiltà e soprattutto il rancore degli ambulanti. E siete organizzati in un coordinamento diretto con la protezione civile? Siamo organizzati tramite il comune di Pesaro e con l'assessore Frenquellucci che mi ha aiutato ad avere questo canale per portare tutta questa roba direttamente ai confini dell'Ucraina oppure anche a tutti gli ucraini che arrivano in Italia. La raccolta è iniziata da un'ora un quarto, vediamo già tantissimi sacchi di indumenti, di cose utili agli ucraini e dunque il passaparola ha funzionato? Ha funzionato anche perché io ho detto che intanto la merce anche se era usata io la volevo pulita e stanno arrivando veramente tantissime cose e sono contento che già la protezione civile mi fa arrivare un camion tra non molto per poter fare questo primo viaggio. Siamo contentissimi e soprattutto voglio ribadire questo che non è vero, non è assolutamente vero che gli ambulanti se ne fregano e pensano sempre al proprio orto. Oggi abbiamo dato dimostrazione a Pesaro che gli ambulanti sono veri, sani e sono gente veramente che tiene a questa situazione. E dunque la generosità, la necessità non si ferma ad oggi anche il prossimo mercato del martedì, di martedì 8 marzo. Questa raccolta sarà replicata sempre dalle 9 alle 12 davanti al bar ciclone del mercato settimanale al San Decenzio. Grazie. Grazie. Grazie.